Il provvedimento d'intesa con l'assessore alla salute Ruggero Razza arriva dopo le note dei comuni e le relazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP sulla diffusione del coronavirus. A San Giuseppe Iato e San Cipirello tornano dunque le limitazioni necessarie per isolare le aree dove l'incidenza dei contagi è tornata ad essere alta. Dunque è previsto il divieto di entrate ed uscita dal territorio comunale, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, il transito per gli operatori sanitari, sociosanitari, per il personale impegnato nell'assistenza alle attività inerenti in emergenza, nonché per i prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. Rimane consentito il transito esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante. Non si potrà circolare all'interno del comune ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per ragioni di natura sanitaria. Sospese tutte le attività didattiche e scolastiche di ogni ordine, grado degli uffici pubblici, commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro. Grazie 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 Grazie